Io sono Tomasi, sono del club Rane Nere sul Trento, sono Papper, abbiamo appena partecipato al campionato italiano per Fabriano. E in quale disciplina? Io ho cariggiato nelle tre discipline, Rana, ieri ho vinto l'Argento, B-Pinne oggi però ho fatto una bruttissima prestazione, la peggiore della mia vita, e con la Monopinna sono arrivato a terzo. Ok, giustamente, parliamo di questa peggiore della tua vita, che cosa è successo secondo te? È successo che ho iniziato ad avere sofferenza troppo presto e non sono riuscito a gestirla e ho avuto pensieri negativi che mi hanno fatto uscire, mi hanno fatto rinunciare. E' la prima volta in 15 anni di agonismo che mi succede, ci sta. Il che significa che questa è una disciplina dove ci vuole veramente un benessere anche psicologico? Allora, visto che io non sono più un ragazzino, non mi alleno neanche tantissimo, ho appena vinto il mondiale a settembre a Cassi nel setto costante con le B-Pinne. Quello che devo dire è che questa disciplina è sull'80-85% mentale e il resto è fisico. Quindi per noi la testa è fondamentale. Allora, come consiglieresti a un ragazzo del tuo comprensorio di iscriversi al tuo club? Allora, l'apnea è uno sport bellissimo, molto sicuro se si fa in coppia, perché la cosa più fondamentale è quello. È uno sport che dà delle emozioni molto forti perché è molto introspettivo, ti fa andare alla ricerca di te stesso. Quando tu metti sotto, è vero che poi anche nell'agonismo sei in competizione con le altre, ma in realtà tu sei sempre in competizione con te stesso, con le tue paure, con le tue ansie, che devi sempre cercare di superare. Quindi ti fa crescere molto, la tua autostima ti fa crescere molto la tranquillità interiore. Un'ultima domanda. Rane Nere, quanti soci siete? Siamo più di un centinaio di soci. Nel 2017 festeggiamo i 50 anni, anzi invito tutti quanti l'8 di aprile al Museo di Scienze Naturale di Trento festeggeremo i nostri 50 anni. E come mai siete così pochi oggi qui? Oggi qua siamo in pochi perché tanti atleti purtroppo hanno avuto dei problemi, chi di salute, chi di altro genere. E poi siamo anche all'inizio delle competizioni. E per noi comunque è un viaggio molto lungo. Sì, quello è vero. Comunque grazie. E io sono qua soprattutto grazie a una persona, anzi un carissimo amico che è qua, che è Luigi Noceppi, che sicuramente è stato uno stimolo per molti per venire qua.